Bentornati su Shacy Crime, io sono Shacy e se state guardando questo video significa che è sabato, che ho finalmente finito il trasloco e che sto per raccontarvi una nuova storia. Se i miei contenuti vi interessano lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi le prossime storie. Detto questo, iniziamo col video! Bentornati ragazzi, bentornati, anzi bentornata io, mi siete mancati tantissimo. Chiedo scusa per questo lungo periodo che poi, vabbè, sono due settimane, però due video sono tanti. Ma appunto il trasloco è stato faticoso, stressante, ma finalmente riesco a vedere una piccola luce in fondo al tunnel della speranza. Quindi perdonatemi tantissimo, ma adesso sono tornata, i video torneranno regolarmente ogni sabato. E se riesco magari ci infilo anche qualche video in più qua e là, chissà, ci spero. Comunque questo è il nuovo sfondo, per adesso è un po' spoglio in realtà, però ringrazio tantissimo Papino. Spero piaccia anche a voi perché ci ha messo tantissimo impegno. Grazie Papino! E voi in realtà vedete, boh, tutto così spoglio, in realtà sono ancora circondata da sacchetti e buste, quindi non tutto come sembra. Spero di riuscire a mettere a posto tutto quanto. Ma adesso ragazzi, non indugiamo oltre e iniziamo col caso di oggi. Il caso di oggi è una storia veramente triste. Parla di una ragazza di 20 anni che purtroppo è stata rapita, violentata ed uccisa da un uomo che la stolcava. È un caso delicato e soprattutto io spero di non trovare commenti del tipo, ah, se l'è andata a cercare, perché no, nessuno se la va a cercare. Comunque, iniziamo. Questa è la storia di Marbella Valdez Villareal. Ci troviamo a Tijuana, in bassa California, in Messico, e sabato 8 febbraio 2020, in una discarica, viene ritrovata una busta contenente il corpo di una giovane ragazza. Questa ragazza era scomparsa da circa tre giorni e si chiamava Marbella Valdez Villareal. Il corpo presentava segni di violenza e la causa del decesso era stimolamento. La sorellastra e le persone a lei care subito fanno il nome agli inquirenti di un uomo, un uomo che stolcava la povera Marbella da diverso tempo. Questo uomo si chiamava Juan Perez Hernandez. Ma per sapere come siamo arrivati a questo punto e cosa succederà, come sempre, dobbiamo fare un passo indietro. Marbella nasce nel 1999 a Tijuana, appunto in bassa California, che si trova in Messico. Sin da bambina è stata in orfanotrofio. Non si sanno molte informazioni sul perché, se i genitori siano venuti a mancare, oppure semplicemente perché non potevano prendersi cura di lei. In ogni caso, passa da una casa famiglia ad un'altra fino all'età di 18 anni. Infatti, nessuno l'ha mai adottata. Appunto, una volta maggiorenne, dopo aver preso il diploma, Marbella riesce ad uscire dall'orfanotrofio e ad essere indipendente. Questo perché dal 2014 un impresario di nome William H. Messick o Hessick, non è chiaro perché su internet vengono fuori tutti e due i cognomi, sia con l'H che con la M. In ogni caso, lo chiameremo William per non sbagliare, condò un'organizzazione no profit che serviva proprio a dare supporto ad altri ragazzi come Marbella, che una volta usciti dall'orfanotrofio volevano essere indipendenti, volevano avere una loro vita, non finire magari in mezzo a una strada. Marbella quindi viene aiutata da questa organizzazione e da William stesso, che era praticamente un padre per lei e questo nonostante non l'avesse mai adottata. I due avevano proprio un rapporto come un padre ed una figlia. L'uomo le pagava un appartamento a Tijuana, a patto che lei si impegnasse nell'università e frequentasse la chiesa. E c'era anche un'altra condizione. Marbella non doveva fare entrare nessun uomo, nessun ragazzo, in quell'appartamento. Nemmeno William stesso. Come ho detto, Marbella si era iscritta all'università. Studiava infatti diritto all'università della bassa California. E aveva anche trovato un piccolo impiego in una stazione di servizio, un benzinaio insomma. Ed è proprio lavorando in questa stazione di servizio che Marbella conoscerà l'uomo che le porterà via alla vita e il futuro. Questo uomo era proprio Juan Perez Hernandez. Non si sono trovate molte informazioni su Juan. Questo perché la legge messicana stabilisce che l'identità dell'imputato deve essere tutelata. E quindi si sanno solo poche cose. Juan era un uomo di 35 anni di Tijuana e aveva lavorato in passato per l'ufficio della polizia scientifica come stagista. Ma nonostante fosse soltanto uno stagista che lavorava in un ufficio, lui si presentava a tutti quanti come un ex poliziotto. Cosa che in realtà non era mai stato. Juan incontra Marbella per la prima volta nel 2019, proprio mentre lei era di turno alla stazione di servizio. E da quel momento nasce nell'uomo un'incredibile ossessione per Marbella. Pensate che Juan si presentava sul luogo di lavoro di Marbella portando la colazione per tutti, il caffè per tutti quanti. E passava la mattinata a chiacchierare con tutti, guadagnandosi così la fiducia delle persone intorno a lei. A Marbella stessa invece portava sempre dei regali che erano mazzi di fiori, cioccolatini oppure orsacchiotti di peluche. Gli amici e le persone vicine a Marbella conoscevano la situazione. Più avanti William stesso dichiarerà che una volta aveva chiesto a Marbella di questa questione, dei chiarimenti. E Marbella era scoppiata a ridere. Questo perché non prendeva sul serio Juan e non era per niente interessata a lui. Per Marbella infatti questa situazione, questi gesti non erano qualcosa di grave. Non reputava la situazione pericolosa, anzi la vedeva come una cosa divertente. Purtroppo questo divertimento inizia a degenerare molto velocemente. Più il tempo passava e più Juan iniziava a seguire dappertutto Marbella. La ragazza infatti non se lo ritrovava più soltanto al lavoro la mattina ma ovunque andava. Molte volte anche alle feste a cui lei partecipava, a cui era stata invitata. L'uomo si presentava lì e le chiedeva di tornare a casa con lui. Per non parlare poi di quando Juan aveva scoperto che Marbella aveva un fidanzato. Era arrivato al punto di minacciarlo per strada davanti a tutti. E voi vi chiederete come avrà mai scoperto che la ragazza aveva un fidanzato? Semplicemente la stava seguendo. Ma non è che passava giorno e notte a pedinarla. No, le aveva installato un dispositivo di localizzazione nella macchina. Ed infatti verrà trovato più avanti, proprio durante le indagini della polizia. E non solo quello, perché troveranno anche una copia delle chiavi dell'appartamento di Marbella in possesso di Juan. Io non commento, so solo che lo stalking non è per niente bello, non è divertente e ti mette soltanto tantissima paura e angoscia. Non ci sono passata personalmente, ma una persona che conosco. E quindi, sì, è inquietante. Questa persona ti segue e ti impedisce di vivere la tua vita ed è la cosa più angosciante che voi possiate immaginare. Detto questo, arriviamo al 5 di febbraio del 2020. Era mercoledì e quel giorno Marbella non si presentò né sul posto di lavoro né alle lezioni in università. Non riuscendo a contattarla, Brenda, una ragazza che Marbella aveva conosciuto appunto negli anni in cui stava nelle case famiglia e che reputava come sua sorella, decide di recarsi all'appartamento di Marbella. Però lo trova semplicemente chiuso a chiave e dentro la ragazza non c'era. In realtà non era né nell'appartamento né da nessun'altra parte, era come sparita nel nulla. Per questa motivazione, Brenda, in preda al panico e preoccupata per sua sorella, decide di denunciarne la scomparsa alle autorità e dare inizio così alle ricerche di Marbella. E pensate che un'ora dopo la denuncia della scomparsa, a Brenda arriva un messaggio proprio da Marbella. In questo messaggio Marbella dice a Brenda che non si sentiva bene e che sarebbe andata dal medico perché aveva mal di stomaco. Il problema è che Brenda capì subito che c'era qualcosa che non andava e che quel messaggio non l'aveva assolutamente scritto Marbella. Brenda e William iniziano anche a condividere foto e descrizione di Marbella su tutti i social, in modo da informare il più possibile la popolazione. E non fanno solo questo. Brenda e William infatti iniziano a tracciare, a cercare di localizzare il telefono di Marbella. E guarda un po', il telefono di Marbella e il telefono di Juan erano esattamente nello stesso posto. E infatti Juan, per William e per Brenda e anche per gli amici e le persone intorno a Marbella, il primissimo sospettato era proprio Juan. E avevano avvisato la polizia di questa cosa. Gli avevano detto proprio che Marbella era storizzata, seguita da questo uomo. Ma prima che la polizia potesse fare qualcosa a riguardo, l'8 febbraio del 2020, il corpo senza vita di Marbella viene ritrovato in una discarica vicino al Ranch El Chicote, nel sud di Tijuana, praticamente a 26 km circa dall'appartamento della ragazza, dentro un sacco della spazzatura. Marbella indossava il pigiama e aveva polsi e caviglie legate. Ma appunto il fatto che avesse il pigiama addosso faceva pensare agli inquirenti che la ragazza non fosse mai uscita di casa. Qualcuno doveva averla presa e trascinata fuori così com'era. Dall'autopsia viene fuori che Marbella presentava segni di violenza sessuale e sul suo corpo c'erano infatti delle tracce di sperma. La causa della morte invece era lo singolamento. Il 14 febbraio viene organizzato un funerale per Marbella. Questo per poter permettere a tutti quelli che la conoscevano e che le volevano bene di darle un ultimo saluto. Erano presenti William, Brenda, sua cugina Jocelyn Ruiz, gli amici dell'università e anche i colleghi del posto di lavoro. Ma non solo ragazzi, perché che voi ci crediate o no, Juan si presenta al funerale. Lo stesso uomo che era considerato il primo sospettato dell'omicidio di Marbella era presente al funerale e non a mani vuote. Era arrivato con un furgoncino pieno di fiori e un orsacchiotto di peluche. E in più, come tutti gli altri presenti al funerale, aveva indossato anche lui una maglietta. Su questa maglietta c'era la foto di Marbella e una scritta particolare che diceva Ni una mujer mas, che vuol dire non una donna in più. Una frase che andava contro il femminicidio. In quel periodo, infatti, a Tijuana ci sono state tantissime manifestazioni di donne contro il femminicidio e non soltanto donne, ovviamente. Tutta la città partecipava a queste manifestazioni, perché era un periodo in cui ce n'erano stati davvero, davvero tantissimi. Se non erro, non voglio dire una cavolata, piuttosto andate a controllare, ma appunto quello di Marbella era stato il diciannovesimo in pochissimo tempo. Ma torniamo al funerale. Joseline Ruiz, durante un'intervista, dice queste parole riferendosi a Kwan. È stato con noi tutto il tempo, alla veglia e poi al cimitero. Si avvicinava per guardarla nella bara. È cinismo, una mancanza di rispetto. Non credo che vedesse il dolore che stavamo attraversando tutti, piangendo per lei e nonostante tutto, restava lì a darci le condoglianze. Joseline dice anche una cosa molto importante. Dice che quel giorno aveva notato sul collo di Kwan dei graffi. Ed infatti, dai risultati dell'autopsia, verrà fuori che sotto le unghie di Marbella era presente del DNA maschile. DNA che combaciava perfettamente con quello di Juan Perez Hernandez. Così come le tracce di sforma trovate sul corpo di Marbella. William, invece, durante un'intervista, dichiara Restare in silenzio quando quell'uomo è apparso al funerale è stata la cosa più difficile del mondo. Volevo vomitare ogni volta che lo vedevo e volevo anche ucciderlo. Hanno dovuto lasciarlo partecipare perché avevano paura per una sua fuga o che facesse del male a Brenda. Ed effettivamente Brenda era la prima ad aver puntato il dito contro Juan e aver denunciato la scomparsa di Marbella. E finalmente, dopo i risultati delle tracce di DNA trovate sul corpo di Marbella, il 21 di febbraio, Juan viene arrestato. E come ho detto prima, controllando il suo telefono, la polizia scopre che il giorno della scomparsa di Marbella, i telefoni della ragazza e di Juan erano nello stesso posto. Un'altra prova inconfutabile della sua colpevolezza. Anche se c'è da dire che questa cosa del telefono, della posizione, l'aveva scoperta già Brenda prima, insieme a William, ve lo ricordate? E infatti Brenda dice pubblicamente che se la polizia avesse fatto qualcosa subito, se fosse già andata a casa di Juan quel 5 di febbraio, probabilmente avrebbero trovato Marbella ancora viva. D'altra parte, il commissario della Guardia di Sicurezza ed Investigativa Statale, ovvero la Jay-Z, no Jay-Z, Carlos Flores, dichiara che Juan era sempre stato il principale sospettato, anche per le autorità, soltanto che dovevano agire discretamente per evitare che l'uomo scappasse. E dice queste parole. C'erano indizi già dalla prima fase dell'indagine, per la precisione, per il modo di comportarsi di questa persona. Si ricava spesso presso le strutture della polizia di Stato, dicendo che il suo intento era quello che questa investigazione andasse a buon fine. Dopo l'arresto, Juan viene sottoposto a processo. Ci furono molteplici udienze. E qui venne appunto fuori che Juan aveva una copia delle chiavi dell'appartamento di Marbella e ne era entrato in possesso solo qualche giorno prima del racconto della ragazza. E questo poteva indicare una premeditazione di ciò che ha fatto. Infatti era la stessa chiave che aveva utilizzato quel giorno per introdursi nell'appartamento e rapire Marbella per poi portarla a casa sua, picchiarla e abusare di lei. Il telefono di Juan, oltre ad essere nello stesso posto di quello di Marbella, viene anche collegato a delle celle vicino appunto alla discarica dove era stato trovato il corpo della ragazza. E questo era successo il 6 di febbraio. Quindi soltanto il giorno dopo la scomparsa di Marbella. Questo poteva significare che il giorno dopo era già troppo tardi, l'aveva già occupisa e si era sbarazzato del suo corpo. Juan Perez Hernandez quindi viene condannato a 42 anni e 6 mesi di reclusione per il femminicidio di Marbella Valdez Villareal. La sentenza è stata emanata l'11 ottobre del 2022, quindi solamente circa un anno fa. E l'uomo è tutt'oggi a scontare la sua pena. E questo ragazzi è tutto ciò che ho trovato su questo caso. Fatemi sapere come al solito la vostra opinione con un commento qua sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e non scordate di attivare la campanella delle notifiche per non perdere le prossime storie. Seguitemi anche sugli altri social, vi lascio il link qua sotto in descrizione. e noi come al solito ci vediamo sabato prossimo con un nuovo caso. Ciao!